musica ciao ragazzi qui Wolf e Jacopo Mi siamo qua per presentarvi un nuovo gioco che è Fly Gear il simulatore di volo che forse avremo già caricato al primo tutorial no questo sarà il primo video quindi diciamo faremo dei tutorial questo sarà un video trolling il multiplayer si lo gaggeremo con tutti gli altri utenti faremo un casino di impianti tedeschi, francesi, giapponesi soprattutto tedeschi gioca lì nel server che dobbiamo andare comunque adesso vi diciamo che questo sarà un video un po' tagliato perchè purtroppo non possiamo registrare perchè lui usa due finestre abbiamo dei problemi con la gestione finestre del gioco poi magari quando faranno un aggiornamento sarà risolto comunque vedete iniziamo col Boeing 777 che è il mio preferito sulla pista KSFO quindi San Francisco e giocheremo in multiplayer poi dopo lo attiveremo quindi adesso siamo pronti a partire quindi adesso ci troviamo quando siamo dentro il gioco tra tutti i ragazzi qui Wolf e Jacopo Mi e abbiamo aperto Flygear c'è qualche lieve problema perchè come vedete ma si spawn fatti a casa con penetrazione poligonale ecco ci sono degli tre aerei che si sono sovrapposti ai nostri anzi uno si è addirittura acceso come vedete il nostro è quello dietro quindi significa che lo schiacciamo S quindi accendiamo anche noi è giusto ok ci siamo accesi ragazzi avete sentito siamo in multiplayer su un server tedesco però è pieno di inglesi e tutte le nazionalità e Wolf il favore sta attento ecco la prolunga e cosa interessante abbiamo attivato la chat vocale possiamo parlare con gli altri giocatori allora come vedete il nostro call sign il nostro nome visibile agli altri giocatori è troll e adesso diciamo rompiamo un pochino i coglioni beh dobbiamo tenere a fine il nostro nome iniziamo dalla chat hello I'm a troll lol e vabbè fra un po' otterremo le risposte come vedete quello davanti a noi si sta spostando io direi di spostarci anche noi giusto così lo seguiamo allora iniziamo con lo spostarci in cabina purtroppo non siamo esattamente operativi comunque vabbè avete sentito la risposta magari no segui segui non vanno i motori scusate non si accendono i motori adesso vanno su e oh non andavano si sentite naturalmente il solito allarme che rompe le palle hai tolto le palle si sono tolto dov'è che sta andando questo qua non lo scriviamo no allenta 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 gli tagliamo la strada ecco no vai nella visuale normale nooo non questa visuale normale tagliti questa intendevo come visuale normale ma che cacchio ma ops abbiamo dei problemi ragazzi per quanto riguarda la visuale allora un attimino perché non ci siamo sistemati esattamente giusti notare che sta andando avanti intanto ma dove cacchi ah ma perché ho capito perché prima avevamo messo la model vieve solo che l'abbiamo messa da lato per vedere gli altri aerei allora intanto trolliamo un pochino ci sono poche persone vabbè fa niente excuse me I'm new user please there is anyone can help me ecco come vedete stiamo già trollando tutto in inglese purtroppo non potete sentire quando attiviamo la chat cos'è che han detto yes sure sarà quella che ti chiede yes sure sì c'è qualcuno collegato sì però non si sente un cazzo cioè scusate non è magari questo noi proviamo a toglierla così mettiamoci così magari si sente meglio questo qua non c'entra niente è troppo forte adesso li trolliamo sul serio eh scusate no no un attimino allora facciamo un piccolo voletto giusto così per come sentite i motori ah no ho già trovato un'idea ecco sentiamo potremmo dire che adesso li colliamo poi possiamo dire che abbiamo dei terroristi a bordo yes allora intanto però devi gridare mayday ecco riportiamoci di nuovo come potete sentire abbiamo subito i primi problemi da parte degli allarmi e dobbiamo tenerci su stai decollando stai allestando un po' non so perché io non ho fatto niente no no sta andando sta andando non vedi no però c'è ragione sta scendendo ah ecco perché perché stiamo salendo giusto scusa ecco cazzo siamo già andati in stallo no no non to rain non to rain non to rain staccando staccando ok abbiamo tolto l'allarme abbiamo qualche problema come si dice che abbiamo i terroristi a bordo aspetta c'è un terroristi in il mio avviso porro aiutami c'è un terroristi nel mio avviso noi siamo in l'estate emergente porro aiutami mayday poi troppo a questi quando mi ha vado al link del video troppo forte no Non si sente mai una minchia Ma che cacchio di Non si sente un cazzo Ma dov'è che Cos'è che è Non lo so io metto tutto al massimo Traffic Ah stiamo andando addosso a qualcuno Traffic Non so dove sono ma stiamo andando Ok adesso siamo a posto Eravamo sulla rotta di qualcuno Sì no ci stiamo leggermente Cazzo Ops Ragazzi per chi non lo sapesse Time Django non è una bella cosa Ma hai tirato sul carrello No che domande Aspetta aspetta Un attimino che mi rimetto stabile Tipo così Ma non sarebbe meglio scriverlo in chat Così almeno lo sentono tutti Cosa Che deriva terrorist in Siamo over speed Ok Cazzo C'è qualcosa che non va Siamo leggermente sopra velocità Io direi di mettere un attimino il pilota automatico Quindi stoppiamo un secondo Ecco così va meglio Allora Scusate ma già che ci siamo Vediamo quanto siamo bravi col pilota automatico Tu sai come si fa il pilota automatico Boh GPS tipo no Allora Dobbiamo trovare il pilota automatico Mi ricordo che c'era una scheda da qualche parte Instrument setting Dove cavolo è? Il pilota automatico Ah ecco giusto Grazie Allora Dobbiamo fare Adesso non mi ricordo più niente Allora vertical mode Altitudine Quanto è che stiamo alti adesso Aspetta 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 Ci penso io Penso io dov'è che sono Allora siamo alti a 3.700 Quindi ci mettiamo a 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 giusto Facciamo alt Così è impostato Facciamo speed Ci teniamo sui 250 250 E facciamo alti Dov'è che l'ha messo? Ok Adesso facciamo l'HDG Mettiamo su che rotta stiamo andando adesso 288 288 Quindi facciamo 280 280 Ecco come vedete così vi abbiamo anche insegnato Come si usa sta roba qua Ecco io ve lo dico Nei prossimi video faremo anche della Faremo anche dei video tutorial Questo qua è solo un video trolleggiante Quindi non vi preoccupate se non ci capite niente Su come si usa Flygear Attiviamo l'AP Che come vedete è attivo E speriamo in Dio Allora si sta portando sulla rotta Sperando Cazzo Ma dove cazzo sta andando? No no Si sta abbassando Ecco Speriamo in Dio Aia Non so che cacchio sta facendo Sto cretino Allora sta facendo tutto lui Così noi ci possiamo Ok attenzione Io direi di scrivono in chat Così almeno lo possono capire tutti Perché sta andando in cosità Vabbè tu lascialo fare Allora scriviamo ecco in chat Scrive Wolf Attenzione No allora Faccio Mayday E con la Y Ma cazzo Ma perché? C'è il pilota automatico Non rompere i coglioni Non lo so cosa sta facendo Il pilota automatico E coglione Però la rotta è giusta Mi sa che però Non gli piace Non so Non riesce a raggiungere L'altitudine giusta Probabilmente Perché Stiamo andando in over speed Ah ma forse ho capito il perché No vabbè Aspetta No perché Seleziona la chat Ma perché sto aereo qua È cretino Però Siamo in over speed Da 40 minuti E non ha ancora fatto niente Stiamo continuando a salire In velocità È un cretino Sto pilota automatico Scusa eh Ah ma ho capito il perché C'è c'è un problema Cioè L'altitudine Abbiamo dei miei problemi Con l'altitudine Allora Allora Ti ho visto in the plane Su screen Cazzo 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 Per favore Cazzo Stiamo andando in robito No 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 Ma porca vacca Ma perché stiamo andando così veloci Cazzo Guarda Siamo a 400 Ma scusa L'altitudine è neanche tanto Non è Non è il problema L'altitudine Non siamo in orbita Abbiamo Meglio Allora Pilota automatico Che cazzo Cazzo Eppure doveva essere giusta L'HDG è giusta E la E la Ti dà tutto quel che vuoi Basta che Cazzo 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 Allora Abbiamo dei miei problemi Quanto riguarda Allora Facciamo il segno di Cristo Per favore Vabbè ci schiantiamo Sì Anche a me Per colpa di un pilota automatico Che però è il coglione Cioè non abbiamo messo tutto giusto Aspetta No sta diminuendo Sta diminuendo Passi qua un ciclo Dovemmo indicarci qualcos'altro Aspetta Aspetta Deseleziona mia chat Help The Automatic Pilot Is Danger È pericoloso Il pilota automatico We have Too many items In the extreme mod Aspetta Aspetta Adesso ti ho lasciato Lo dico We have too many items In the extreme mod We are fortunate Che cazzo sta succedendo Guarda Il pilota automatico È impazzito The A The Happy Is Dangerous Si scrive così? Sì Magia Ma cacchio C'è qualcosa che non va Il pilota automatico Adesso è sera È notte Ah meno male Aspetta Aspetta Voglio vedere Le altitudine Allora Siamo all'altitudine Quasi giusta E stiamo andando Non so perché si comporti così Ha dei problemi Per quanto riguarda La visuale Non so Perché Sembrerebbe quasi Che stia andando In una forza di gravità Ecessiva E' la altitudine Che non va Perché la Ho capito Ho capito Perché Ragazzi Noi sappiamo usare Il pilota automatico Perfettamente Pezzo di merda Pezzo di merda Non è che abbiamo detto Trenta No Sono giusti Inizieri Allora Perché Allora Scusa Diminuisce La metti La due Mettiamola a duemila Giusto Giusto Magari è stato Lui Sì Magari è stato Il pilota automatico Ops Giusto Non supporta Tasterino numerico Ragazzi Altitudine Adesso Vorrebbe proprio Scendere Ma non è che Non lo so Cos'è che sta facendo Ah Ma ecco Cos'è che era Erano questi qua Che Praticamente Non poteva Toccare Poteva toccare La manetta Non lo so Che cazzo Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Aiutami Wolf Cosa sta succedendo C'è tutta sta roba Cos'è tutta sta roba Non lo so Attiva tutto Dai Puoi attivarlo Aspetta Aspetta Magari Facciamo così Abbiamo detto 3000 Giusto 3000 3000 Dai facciamo Up Ecco Così dovrebbe Girare intorno Sì ma scusa Ma l'orologio Non va bene Non mi piace Sto orologio Allora Facciamo Dov'è che Era Tutti ricordi Dov'è che era Ambiente Forse Configuro Oragio Così sappiamo Ma che cacchio Chi è che sta Toccando C'è qualcosa Che non va Nel orologio Si sta tornando indietro Nel tema Si sta tornando indietro Non so il perché Cosa sta succedendo Allora aspetta L'idea Ok ok A posto Sono le Down No Non è Down Ma perché Non riesce A scendere Nel salire Scusa Guarda il pilota Automatico È disdabil Dabbi Sto pilota Automatico Dov'è una In this server Ci sono dei comunisti Ragazzi Oh attenzione L'aereo si sta Inclinando Sai cos'è che facciamo Adesso Troviamo anche Il pilota Automatico Ma perché Come E come cosa Ho l'impressione Che stia girando Non è più ora No Gli ho dato Una rotta casuale 288 No no Gli ho dato Una rotta a girare In tondo Ma dove cazzo Ah ma ecco perché Perché Non stiamo più Sulla pista Ah non mi fa girare Perché logicamente C'è l'auto C'è il pilota Automatico Attivo Quindi non mi fa girare Allora aspettate Sapete cos'è che facciamo Noi Chi è Cazzo 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 Aspetta Adesso Adesso consulto Adesso consulto Adesso consulto la mappa Un attimino No aspetta Lì L'ho trovato L'ho trovato L'aeroporto Si però Cacchio Ma che cazzo Sta succedendo Ma che cazzo Sta succedendo Eccolo lì L'aeroporto Dai rimettiti in sesto Vai giù Basta 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 Li attiviamo il pilota Ok così va meglio No aspetta Aspetta Sta girando Sta girando Pilota automatico Settaggio Deve andare A 40 Ok adesso Dovrebbe essere a posto Forse Dovrebbe essere a posto Ehm Per la mia impressione O abbiamo sbagliato Ok adesso Dovrebbe Aspetta Qua Qua ti è No è ok A posto A posto A posto Guarda Si sta corrigendo Però voglio capire Esattamente un attimino Dove siamo No Ma veramente Aspetta Devo consultare Un attimino Una mappa Perché c'è qualcosa Che non mi quadra Eccopaggiamento Mappa Magari le facessero Anche in code Queste cose Allora Traffic data Flight history Questo qua è il nostro Percorso di volo Allora Innanzitutto Più o meno Cazzo Che strano Percorso Che abbiamo fatto Ah Ah no Ok 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 Stop 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 Ma che percorso Strano Allora Ecco adesso Crash Non risponde più Flygear Ragazzi Ci abbiamo dei problemi Ecco Non risponde più Flygear Perché ho Giocato con lo zoom Della mappa Non so Vabbè Insomma Ti hai di chiudere qua Sì Con flaggear Che abbiamo trollato Anche quello Abbiamo trollato tutti Cioè Flygear Il pilota automatico La mappa Il naso La prossima volta Magari facciamo un video In cui trolliamo Dalla torre Trollo Adesso è flygear Che ci ha trollato E quindi Ok Ottimo Allora Direi di chiudere qua Con Lo zoom di flaggear Magari con un bello schianto Ci sta Giusto Sì Quindi facciamo un giochino Settaggio pilota automatico Dove era la velocità? Già qua Zero No no Ancora meglio No No Allora aspetta Aspetta Metti la velocità Aspetta No Allora Mettiamo la velocità La La zero E metti la velocità più alta però La velocità Devo disattivare questi Così gestisco Io l'autotrot Devo disattivare Un attimino Allora No Vabbè Allora Facciamo così Bacchina Allora Adesso ci schiantiamo a modo mio Cos'è sto coso qua? Ah la P disingaggio Non sapevo ci fosse anche Un pulsantino così Ok Ehm Beh Poi dovevo metterci a evitare Mayday Giusto Mayday Mayday There are a problem There is a problem Excuse me my Italian English Mayday radio A A A A A A BOOM Segue stata la radio Cissà quelli che ci stanno guardando Facciamo un giochino adesso No non su Non andare su Ok Quanto rompono Sti allarmi Basta Spendiamo Ok così va meglio Ragazzi questa merita di essere vista dall'alto Non così Scusate c'è un problema No no tirati su Tirati su Facciamo notare In finale Com'è che Com'è che si è schiantato il nostro super aereo Ragazzi Speriamo che questo video vi sia piaciuto Facciamo anche notare che Eravamo spersi in mezzo a Nevada Che come vedete è pieno di neve Quindi Da tutti da Wolf E da Jacopo Mì E dal naso